ciao ragazzi un unboxing che è proprio il mio compleanno domenica questo che cos'è ragazzi praticamente guardate cos'è per il mio compleanno la docking station vediamo come la scatola cosa serve docking station docking set per il nostro nintendo switch ragazzi vi devo dire che l'ho presa su amazon come avete potuto vedere praticamente su amazon le scatole sono bellissime pulite pulite ciò per i collezionisti come me è meglio comprare su amazon perché da tempo su game stop ti danno tutte cose rotte troviamo come quello che già abbiamo in dotazione su con la nintendo switch un cavo hdmi con la scritta nintendo e hdmi da parte l'alimentatore giustamente nintendo si trova all'incirca 90 euro la docking station non è economica come cosa però ragazzi varie librettistiche di manuale e garanzie qua possiamo trovarle anche qua cazzate che a noi non serve poi ci dice come collegarlo dice cosa troviamo cavo hdmi alimentazione e questa è la nostra docking station nuova 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 di zecca che porterò a casa mare praticamente quello che ho sopra è anche quella nuova nuova di zecca non cambia assolutamente nulla c'è sempre l'adattatore usb hdmi per collegare la lan che a noi serve perché come potete sapere qui dove c'ho la mia stanzetta da gaming mi manca il ci serve il lan ce l'abbiamo già e già l'ho procurato online su amazon all'incirca al prezzo di 20 euro costava 40 euro trovato un venditore che me l'ha venduto 40 euro l'edizione per lui che è uguale si può usare anche per nintendo switch ragazzi cosa dire questo è nintendo switch docking station tutta la sua bellezza le scatole nintendo switch sono davvero pazzeschi li ho la borsetta che ho comprato per la domingo sette quando una volta a casa mare cosa dire se come dovrei andare a casa mare aspetto vivamente che aspetto perché la lascio così poi metto dentro la borse però porta a casa ma non la piazzoli nella mia postazione gaming perché ancora devo andare a casa mare va bene ragazzi io vi saluto abbiamo tutto collegato tutto ben preciso ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi con la don king set e tutto a un prossimo video domani sicuramente non ci riesco ma lunedì o domenica lunedì sicuro escerà lo speciale per il mio compleanno e sarà una sorpresa ciao a tutti ragazzi ciao